I sei anni del mandato da Rettore stanno per terminare. Scadenza naturale il prossimo mese di giugno. Oggi a Chieti, nel Rettorato della Campus Universitario, la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico ad aprirlo ufficialmente per l'ultima volta, appunto, da Rettore Sergio Caputi. Rettore, che consuntivo possiamo fare di questi sei anni? In questi sei anni, devo dire, io ho ereditato una situazione un po' particolare all'università. Quello che sicuramente è stato fatto è stato ricreato un clima sereno di collaborazione e di appartenenza all'Ateneo. Abbiamo mantenuto gli studenti, siamo rimasti tra i grandi Atenei del paese perché abbiamo più di 20.000 studenti. Abbiamo aperto 17 nuovi corsi di laurea in questi anni qui. Abbiamo fatto 650 concorsi per i docenti, tra ordinari, associati e ricercatori. Sono stati nominati tre nuovi dirigenti che hanno vinto dei concorsi. L'adannunzio non aveva mai avuto dirigenti. Poi sono stato ovviamente coadiuvato dai prorettori, dai miei delegati. Cioè un lavoro di squadra. È stato un lavoro di squadra, assolutamente. Ecco, sei anni fa, all'atto della sua investitura ufficiale, dopo l'elezione, l'adannunzio aveva perso molti studenti. Il trend è stato nettamente invertito. Sì, sì, abbiamo recuperato le perdite degli studenti. Tenga presente che io mi sono trovato qui senza direttore generale e sono arrivato da solo. Direi che è stato un bilancio molto positivo. Una bella esperienza. Ce l'ha un rimpianto? Sì, purtroppo il Covid mi ha fermato. La mia idea principale era quella sicuramente di lasciare Viale Pindaro e fare una nuova università. In particolare, lo sanno tutti, sull'area dell'ex cofa. Ma non ci sono riuscito, non ce l'ho fatta. Abbiamo fatto investimenti su Viale Pindaro, sulla vecchia sede che avevamo. Abbiamo speso più di 6 milioni di euro per riqualificarla. Più abbiamo fatto qualche altro investimento. Abbiamo preso Stella Maris a Montesilvano per fare dei laboratori di ricerca importanti. e sull'ex cofa abbiamo vinto un progetto. Però stiamo aspettando i finanziamenti, quantomeno per fare una cordata di collaborazione sempre nell'ambito della ricerca.